Andrea Iacovizi, operatore professionale charter di pesca sportiva, campione d'Italia di treno d'altura e campione d'Italia di drifting. In collaborazione con MedDefense e ValiantMed abbiamo realizzato un battello da pesca veramente senza uguali. Un battello ideato da pescatori per pescatori sportivi. Ma voglio presentarvelo un po'. Innanzitutto partiamo dal dire che questo battello ha le bitte che diventano portacanne. Ogni bitta infatti integra i portacanne. Ci si può montare direttamente Full Rocket oppure le Y per pescare a treno d'altura. Quindi una vera novità nel settore della pesca sportiva. E ancora, tutte le plancette, sia quella di prua che quelle laterali, integrano delle piastre in ottone per avvitare e filettare direttamente i portacanne piuttosto che il motorgide a prua. Quindi non ci sarà più il problema di perdere o di dover sostituire delle viti sui portacanne. Ma andiamolo a vedere ancora un po' più nel dettaglio. Quali sono le vere novità e le vere potenzialità di questo battello? Saliamo a bordo. Iniziamo con la vasca del vivo veramente capiente. Infatti questa vasca del vivo qui, che ha un semplicissimo, troppo pieno, che funge anche da sfondamento notare della vasca, ha una capienza di ben 85 litri. E soprattutto è circolare. Quindi al suo interno nessuna preda vi morirà più. Ma ancora, qualora ci fosse troppo mare, posso chiuderla e usare questo piccolo sportellino qui per mettere dentro le esche. Una vera novità nel campo della pesca sportiva. E ancora, i sedili sono tutti a scomparsa. Nel momento in cui arrivo in pesca, posso facilmente chiuderli e ripiegarli e avere il pozzetto completamente fruibile. E adesso vediamo quella che forse è veramente la novità più importante di questo battello. Infatti, fino a ieri era impossibile ospitare su un gommone l'attrezzatura da pesca. Ma noi abbiamo inventato quello che può essere un cocaporto che definirei dei sogni del pescatore sportivo. Perché infatti qui dentro ci stanno canne da pesca lunghe fino a 2,10 metri. Il gavone è completamente stabile, calpe stabile e soprattutto lavabile grazie allo scarico diretto in sentina. Quindi potrete lavare e tenere tutto pulito senza nessun problema. E allora, allora andiamo a pesca col Mad Valiant. Allora andiamo a pesca col Mad Valiant.